L'estate è entrata nel vivo dopo una primavera particolarmente piovosa. Il sole da circa una decina di giorni è tornato protagonista nei territori del Riminese, con il caldo che si è intensificato dalla giornata di domenica 16 giugno. Il picco di questa ondata di caldo, sostanzialmente moderata, dispetto di alcune previsioni allarmistiche, è ormai alle spalle. Il caldo tornerà però moderato, mentre qualche rovescio temporale sarà confinato alla zona degli Appennini. La vicinanza del mare a Rimini ha permesso alle temperature massime di superare i 30 gradi solamente nell'area del centro storico, come da rilevazioni di Asmer. Il caldo si è fatto sentire soprattutto nelle città di pianura e lontane dal mare, come Villa Verrucchio, dove le massime hanno superato abbondantemente i 35 gradi in questi ultimi giorni, con picchi di umidità vicini all'80%. Situazione particolarmente bollente anche nell'entroterra. A Nuova Feltria la temperatura massima ha toccato un picco di 35 gradi nella giornata di martedì, calando leggermente di un grado la giornata successiva. Rispetto all'anno scorso però la situazione è stata meno rovente, visto che nei giorni 19 e 20 giugno 2012 le temperature massime di Nuova Feltria sfiorarono i 38 gradi, tetto raggiunto a fine mese. Le previsioni a lungo termine invece al momento escludono ritorni dell'anticiclone africano per i giorni finali di questo mese. Da lunedì a mercoledì è attesa una fase con peggioramento del tempo, lunedì pomeriggio in particolar modo è attesa una decisa rinfrescata con rovesci e temporali su tutto il territorio della provincia.